Allora, se passa il primo politicante di turno e ti dice che la privacy è un feticcio, che bisogna rinunciare alla privacy e ti tira fuori i soliti discorsi, chi non ha niente da nascondere, niente da temere, li valuti come valuti quel tipo di persone. Diverso è se qualcuno di davvero influente nel campo, uno dei padri fondatori dei diritti digitali italiani, inizia invece a raccontare usando le stesse parole, cioè il feticcio della privacy, l'isteria dei dati sulla privacy. Lì ti fermi un secondo e gli dici, aspetta un secondo, che ci fermiamo per una riflessione un po' più approfondita su la privacy, da dove arriviamo, dove stiamo andando e perché non solo lui ovviamente, ma in tutto il mondo c'è una riflessione importante. Da un lato c'è qualcuno che inizia a usare la privacy, gli Stati Uniti che la scoprono più o meno adesso, dall'altra una mossa per dire attenzione, la privacy non è il sancta sanctorum di tutto. Uno speciale, tutto da vedere, mettetevi comodi, parliamo di cose importanti, io sono Matteo Flora e questa è la nuova puntata di Ciao Internet con Andrea Monti. Ciao Andrea! Ciao Matteo, bentrovato. Allora, per quei pochi pazzi, a parte il fatto che sulla mia, cioè, su chi mi segue normalmente sapete chi è Andrea Monti, per tutti gli altri. Quando dicevo uno dei padri fondatori dei diritti digitali, intendo non solo da parte di scrittore, con Stefano Chiccarelli ha scritto Spaghetti Hacker, che è forse lo miglior summa di che cosa è successo nel periodo d'oro del hacking italiano, ma anche libri fondamentali, tipo, mi viene in mente con Giustozzi e con Zimuel, Spie, Segreti e Codici Cifrati, dove tanti di noi hanno imparato che cos'era la crittografia. Per darvi un'idea, attivista dall'inizio dei tempi, nel 2005, prende il premio Freedom Blog Awards da Reporter Sans Frontier, quindi non proprio... Nel frattempo fa l'avvocato, nel senso, ok, scrivi, però fai l'avvocato e insegni, insegni un po' di... Sì, in diversi ambiti ho insegnato diritto dell'ordine di sicurezza pubblica nell'Università di Chiesi, dove attualmente ho un insegnamento di Digital Law, quest'anno ho insegnato anche alla Sapienza, nel corso in media, comunicazione digitale e giornalismo, dove ho ottenuto un corso di Cyber Security, Privacy e Identità Digitale, e quest'anno lanciamo, partiamo il 7 di marzo, Il primo laboratorio per la tutela delle fonti giornalistiche. Sarà un laboratorio pratico nel quale spieghiamo come fare in modo che il giornalismo investigativo, quello politico, quello che ha portato alle rivelazioni di Snowden e altri grandi leak, possa essere fatto dando adeguata tutela alle fonti. Non solo, ha insegnato alle forze di polizia, perché ha insegnato all'Istituto Superiore di Polizia dello Stato, il Centro Addestramento della Polizia Postale, la Scuola per il Controllo del Territorio, anche quella parte. Questo fa parte anche di una scelta di interazione anche con le forze di polizia, perché nonostante tutto non riesco a vedere il ruolo dell'avvocato come avversariale, come contrario per definizione nell'ambito del mondo della giustizia. È chiaro che nella quotidianità dell'udienza c'è evidentemente una posizione di confronto e di contrasto, ma incontrandosi in alto credo che condividere esperienze sia utile per tutti. E già quello ha fatto alzare più di un sopracciglio, come tu immagini, perché nella vulgata comune è gli hacker contro gli sbirri. E lo sappiamo, è cambiato tanto negli anni, soprattutto è cambiato il rapporto, però già quello. La cosa su cui in realtà vorrei chiacchierare oggi è tutta una serie di tuoi contenuti. No, aspetta che ho messo quello sbagliato di visualizzazione, eccoci qua. Allora, ce ne sono alcuni che sono perfettamente… Allora, perdonami, il cliché che mi aspetto da te che scrivi, cioè so che sei a favore dell'open source, so che hai sempre detto attenzione a dire che l'open source è più insicuro o è a servizio dei criminali, stessa cosa quando si parla di LLM e AI. Cioè, è nel ruolo che io ho di te in testa, ok? Nel mio cliché, non che tu ti comporti a cliché, però nella mia testa, se devo dire, l'opinione di Monti su open source e LLM, quella, me l'aspetto. E tutta una serie un po' più particolari sulla privacy. Ne ho selezionato qualcuno, la privacy uccide gli esseri umani per proteggere la persona, come l'isteria della privacy sta uccidendo la street photography. Questo è un po' più il feticio della privacy e le polemiche sul riconoscimento facciale, oppor se è un impregno di tecnologia per garantire la sicurezza perché qualcuno potrebbe abusarne, equivale a affermare di non aver fiducia nelle istituzioni. Sì, tra l'altro, nel mio caso sì. Dati tra il feticio della privacy e regole antidivoviane. Cioè, tutta questa parte di privacy e sicurezza pubblica. privacy che ho sempre pensato che cozzino un pochettino con l'idea di base che abbiamo non solo dell'attivismo, ma con quasi tutte le battaglie. Cioè, l'idea di base della privacy to cure è che non potendo capire come questi dati eventualmente possono essere abusati, l'unico modo per prevenire l'abuso di determinati tipi di dati è non collezionarli e non analizzarli. L'ho messo in pratica, è morto un attivista e un gattino, mentre l'ho semplificata così. Tu sembri invece di avere un'opinione completamente diversa. Mi la spieghi? Ti lascio proprio il palco. Ok, allora, dobbiamo partire un po' da lontano, e cioè farci una domanda che sembra banale, ma che in realtà non ammette una risposta così semplice e così chiara. Cioè, cosa intendiamo per privacy? Adesso non voglio rifare 150 anni di storia di come si è avuto questo concetto, però... No, ma prenditi il tempo che vuoi, davvero. Secondo me è fondamentale. Quindi, no problem per me... Sì, ma è legalese, guarda, è legalese puro e non credo che all'audience interessi una cosa del genere. Poi, sul mio canale YouTube c'è una lezione che temi all'Università di Milano, presentando appunto il libro dove ho sintetizzato questi ragionamenti, che si chiama Protecting Personal Information. Magari chi vuole... Nella descrizione trovate il link al suo canale YouTube, tra parentesi. e quindi lì poi trovate poi anche tutta una serie di altri contenuti, per esempio, legati al tema della sorveglianza globale e di pubblica sicurezza. Quindi, se avrete tempo e voglia, lì potete trovare questi ragionamenti sviluppati in modo ancora più organico. In sintesi, il punto è questo. La privacy in quanto tale, come concetto giuridico, per quanto controintuitivo possa sembrare, semplicemente non esiste. Non esiste perché il senso di quello che noi associamo a questa parola ha molte facce, ciascuna delle quali è già tutelata in modo autonomo. Per esempio, la segretezza delle comunicazioni, il fatto che nessuno debba inserirsi in quello che ci stiamo dicendo, a meno che non lo vogliamo, a meno che non lo consentiamo, è già tutelato dal diritto costituzionale, appunto, alla segretezza delle comunicazioni. Il fatto che nessuno possa entrare in casa nostra se non lo vogliamo è tutelato dalla inviolabilità del domicilio, che soltanto tramite un provvedimento di un magistrato può essere violata. Quindi, la libertà di espressione è un'altra forma, ripeto anche qui, per quanto strano possa sembrare, associata al concetto di privacy, perché nessuno può pensare di, dovrebbe pensare, di imporci quello che possiamo dire e dunque prima ancora quello che possiamo pensare. Quindi la domanda fondamentale è, se abbiamo già questi diritti che sono ampiamente tutelanti della nostra sfera privata e personale, che cosa ci dà in più questo presunto diritto alla privacy? Noi abbiamo, come moltissime altre cose, importato tutta una serie di categorie giuridiche da un mondo, quello del diritto anglosassone, che semplicemente non è il nostro e non funziona allo stesso modo. In questo anche l'Unione Europea ha contribuito, perché la tecnica normativa adottata in direttive e regolamenti riprende un po' questo approccio quasi casistico, per cui ci si dimentica che sistemi giuridici come quello italiano, che magari sono in giro da qualche settimana in più rispetto ad altri sistemi giuridici, hanno un'impostazione più architettonica, più strutturale, basata su principi che poi progressivamente vengono specializzati in singole norme. Pensiamo per esempio alla differenza che c'è fra l'aspettativa di riservatezza di un narcotrafficante, di un attivista politico o di un partner infedele rispetto al concetto di privacy. Ciascuno di questi tre soggetti ha evidentemente interesse per ragioni diversissime a non far sapere agli altri che cosa sta facendo, ma è chiaro che nel caso del narcotrafficante non stiamo parlando di privacy, stiamo parlando di volontà di sottrarsi alla possibilità che le forze di polizia lo arrestino. Nel caso del giornalista, dell'attivista politico, non stiamo parlando di privacy, stiamo parlando appunto di tutela delle fonti e di tutela della propria incolumità personale. E nel caso del partner infedele mi sembrerebbe abbastanza eccessivo rivendicare il diritto a violarne un altro, cioè il dovere di fedeltà per chi è sposato in modo giuridico o anche per chi ha una relazione, anche se in questo caso parliamo più di un impegno morale che di un vincolo giuridico. Quindi come vedete in questi casi il concetto di privacy è del tutto inutile, ma soprattutto è inconferente rispetto all'obiettivo che determinati soggetti possono perseguire. Quindi abbiamo dimostrato che non c'è una equivalenza fra la parola privacy e il concetto di riservatezza o il concetto di inviolabilità del domicilio e non c'è nemmeno una corrispondenza fra questa parola e la protezione dei dati personali. Questo può sembrare quasi un'eresia, ma in realtà non è così, non lo dico peraltro solamente io perché sono in buona compagnia e fin dal 1999 che il Tribunale di Milano con l'unico provvedimento di cui ho memoria peraltro stabilì che la protezione dei dati personali non afferisce ad uno statuto generale della persona, come appunto i diritti costituzionali, ma è soltanto un concetto, un istituto giuridico che serve a regolare la circolazione dei dati. Ora, che l'accumulazione massiccia di dati da parte di singoli soggetti e le possibilità che derivano dall'analisi di questa accumulazione di dati possano mettere in pericolo non solo i diritti individuali, ma la tenuta degli stati in quanto tali credo sia difficilmente discutibile. Da qui a applicare il concetto di privacy a questi temi ce ne corre. Primo, perché lo stesso regolamento sulla protezione dei dati personali banalmente non usa mai la parola privacy in tutto il suo testo, in tutto il suo corposo testo compresi i considerando. Al contrario, la norma prevede che i dati personali che devono poter circolare liberamente, perché questa è la parte che si tende a dimenticare del GDPR, devono essere trattati rispettando una serie di diritti, fra i quali anche quello alla riservatezza. Ma abbiamo visto che riservatezza non equivale a privacy, primo perché la riservatezza è giuridicamente definita e la privacy no, e poi perché appunto il GDPR è, se vogliamo, antitetico al concetto di privacy, perché se l'obiettivo è quello di garantire che i dati siano sempre liberamente disponibili, integri e attendibili, beh, allora questo è a 180 gradi rispetto al concetto di privacy intesa come right to be alone, come muro invalicabile oltre il quale nessuno deve poter passare. Quindi ci sono molti argomenti da un punto di vista giuridico che suggeriscono di smettere di parlare, di utilizzare un concetto vago e che non ha una reale definizione, una reale consistenza giuridica e di rifarsi invece a quelli che sono i diritti costituzionalmente riconosciuti per quanto riguarda l'Italia e i diritti oggetto anche della Carta di Nizza, cioè del trattato che i componenti, gli stati membri dell'Unione Europea hanno sottoscritto per riconoscere un insieme di diritti comuni. Sottolineo che la Carta di Nizza non è la Costituzione europea, ma è quanto di più vicino possiamo avere alla Costituzione europea, perché quando Francia e Olanda bloccarono nel 2005, mi sembra, il 2005 e 2007 il referendum, il processo di creazione della Costituzione europea, non è stato possibile fare quello che Mario Draghi ha già in più occasioni recentemente detto, cioè fare dell'Europa uno Stato, perché il punto è esattamente questo, ma poi questo discorso ci porterebbe lontano e da un'altra parte, il problema è che non essendo l'Europa uno Stato non può avere una Costituzione e non può avere una forza gerarchica diretta su tutti gli Stati, però ripeto qui entriamo in un ambito totalmente differente rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi. Quindi per tornare al punto, il GDPR in realtà non parla tanto di privacy, ma parla di need to know, cioè il concetto di riservatezza incorporato nel GDPR è sì sicuro che quando maneggi dei dati hai il diritto di farlo e sì sicuro che quando li dai a qualcuno, quel qualcuno abbia il diritto di riceverli. Veramente in estrema sintesi, se dovessi creare una tagline a proposito del GDPR farei questo. Quindi abbiamo eliminato dall'equazione un altro fattore, il GDPR non è privacy. E quindi a furia di togliere pezzi, la domanda che ci dovremmo fare è ma allora questa privacy cosa l'è? Questo è il punto. La mia riflessione che ho sviluppato in tre o quattro libri, in tutti gli articoli che alcuni dei quali hai gentilmente citato, è che forse questo concetto ha fatto il suo tempo. È stata un'ottima etichetta vent'anni fa per porre un problema, ma probabilmente è un'etichetta sbiadita, non va più bene, perché gli aspetti legati al rispetto dei diritti costituzionali hanno preso un'altra faccia. E perché continuo a parlare di diritti costituzionali e non di diritti umani, di diritti fondamentali? Perché questo è l'altro perno della mia riflessione, e cioè nel corso degli anni è cambiato il senso della parola diritto. Noi siamo sempre stati abituati a considerare il diritto come qualcosa che arriva dal basso, basta pensare a quello che ha portato all'approvazione della legge sull'avorto e sul divorzio. Ci sono state delle istanze sociali rappresentate inizialmente da una minoranza che si è esposta in prima persona, subendo discriminazioni, subendo sanzioni, mettendo a rischio la propria libertà personale. Non dimentichiamo tutte le campagne del Partito Radicale negli anni 70 che poi hanno portato ai referendum. E non dimentichiamo quelle che si stanno facendo oggi, per esempio sul fine vita, con persone, faccio riferimento esplicito a Marco Cappato, che ogni volta rischiano con danni penali durissime per affermare il principio e per costringere il Parlamento a farsi carico di questo tema. Il punto è esattamente questo. Quello che è successo nel corso degli anni, con la feticizzazione dei diritti costituzionali che sono diventati diritti umani, diritti assoluti, diritti fondamentali, chiamateli come vi pare, quello che è successo è che questo processo di raffinazione delle istanze sociali, dal dibattito pubblico alla mediazione politica di visioni del mondo contrapposte in Parlamento, alla formalizzazione di una mediazione nella forma della legge, è praticamente scomparso. I diritti sono diventati o imposti dall'alto o stabiliti a tavolino in modo del tutto unilaterale da gruppi di varia natura o, e qui arriviamo al punto, da soggetti privati che hanno tutto l'interesse ad appropriarsi del diritto di decidere che cosa è un diritto. Faccio due esempi, i cartelloni degli iPhone che dicono privacy that's iPhone, i cartelloni pubblicitari, e l'acquisizione di Twitter da parte di Musk. Che cosa hanno in comune questi due eventi? Beh, hanno in comune il fatto che qualcuno che è sufficientemente forte e dotato di risorse per poter ottenere questo risultato, decide che cos'è un diritto, quali sono i suoi contenuti e in che modo devono essere esercitati. E tutto questo accade al di fuori del dibattito pubblico classico, attenzione non sto parlando di convegni accademici, di saggi barbosi da leggere, parlo proprio di un dibattito legato all'essere nella società civile e stimolare riflessioni su questi argomenti. Ma se questi dibattiti vengono polarizzati in nome di concezioni fideistiche, cioè in nome della trasformazione, nel caso specifico della privacy, in una sorta di divinità laica, senza voler peccare di blasfemia, mi verrebbe di parlare dell'invocazione di Nostra Signora della Privacy ogni volta che si parla di questi argomenti. Credo che l'abbia già detto Guido, quindi sì, credo che si possa fare, credo che sia una delle volte che diceva Guido in un convegno, Nostra Signora proprio della privacy. E quindi con tanto di cerimonie basate sull'ostensione del feticcio portato in processione come se fosse un omikoshi in un mazzuri giapponese. Quindi è chiaro che, per tornare al punto, se il dibattito viene polarizzato in questo modo e si confrontano posizioni monoteistiche, quello che abbiamo non è più un processo di confronto nella società civile, ma abbiamo le crociate. Cioè lo scontro fra monoteismi che, chiaramente, per legge di non contraddizione, non possono esistere nello stesso spazio-tempo. Perché per definizione il monoteismo può essere uno e quindi se io sono monoteista e tu sei monoteista, il mio monoteismo è l'unico per cui i casi sono due. O cambi idea tu, oppure ti rado al suolo. Per quanti come me non sapevano che cosa fosse l'omikoshi, l'omikoshi è questo. Ti è passato un omikoshi così a caso? Magari lo diciamo. In realtà, devo dirti la verità, tranne in un po' di, non nella mia, ma un po' di trasmissioni online è un bel po' che non vedo un dibattito di società civile. Perché? Perché i dibattiti sono... ne parlavo, tra l'altro, con quattro ciocchi. Questa settimana dovrebbe uscire anche il video con lui. Sono polarizzati e i convegni sono fatti sempre più spesso. Cioè è tanto tempo che non vedo un convegno di dibattito. In realtà i convegni li vedo spinti da lobbismo, spinti da una delle due fazioni che vogliono impostare una narrativa e quindi raccontano una delle due narrative. È un giusto o sbagliato che sia non impone. No, certo. Guarda, non so quanto tempo abbiamo ancora. Comunque vorrei arrivare alla risposta alla tua domanda, perché magari poi parliamo del universo... No, poi ho una serie di altre domande, però vai. Parliamo dell'universo e poi non do la risposta a quello che mi hai chiesto. A valle di tutti questi ragionamenti che poi, se vogliamo, rianalizziamo più nel dettaglio, c'è una considerazione. Perché parlo di feticcio della privacy? Perché parlo della necessità di bilanciare le esigenze dello Stato con i diritti individuali? Perché in termini del tutto tecnici, se accettiamo una visione dello Stato basata sulle idee di Thomas Hobbes, cioè che lo Stato sia un leviatano che vede il cittadino come sostanzialmente un avversario? O se accettiamo l'idea di Stato di stampo kantiano, quindi uno Stato etico che sa che nelle sue degenerazioni sa che cosa è meglio per il cittadino e quindi il cittadino si deve semplicemente affidare alla superiore conoscenza dello Stato, quale che sia appunto la visione che abbiamo, la conclusione è sempre la stessa. Lo Stato ha bisogno di ipercontrollare, ipermanipolare e ipersanzionare per garantire innanzitutto la propria sopravvivenza. E questo è un approccio che attraversa il tempo e lo spazio. Perché se guardiamo quello che accadeva nel mondo dell'antica Roma con la figura dei Delatores, se guardiamo a quello che accadeva nella Sparta di Licurgo che vietava l'ingresso di parole nuove in Sparta perché le parole nuove portano idee nuove e corrompono i sani costumi di Sparta, e se guardiamo quello che succede non solo nei paesi a democrazia variabile che ipocritamente chiamiamo autocrazia ma che sono delle tirannie a tutti gli effetti perché autocrazia non vuol dire nulla, chiamiamo le cose per quelle che sono, visto che in termini di definizioni i concetti che già ci sono e non c'è bisogno di creare parole nuove in questo caso forvianti dal punto di vista del senso. Quindi vediamo che i sistemi per la garanzia del controllo dello Stato e per indirettamente realizzare la sicurezza sono sostanzialmente gli stessi. Quindi il concetto dal quale dovremmo partire, anche se non è ovviamente una posizione assoluta ma è molto poco esplorata come territorio culturale, è che la sicurezza è innanzitutto la sicurezza della sopravvivenza dello Stato e la sicurezza dei cittadini diventa quasi un sottoprodotto. Tanto è vero questo che credo nel 1200, nel 1300 in Inghilterra c'era all'istituto del Frankledge nel quale erano i cittadini stessi che dovevano farsi carico della peace of the land, cioè della sicurezza complessiva del territorio e se non lo facevano venivano sanzionati dal sovrano. Quindi ancora una volta, quando si parla di questi temi è abbastanza controproducente e poco efficace ragionare in termini polarizzati di bianco o di nero. E veniamo quindi al punto. È un dato di fatto che ciascun governo ha utilizzato le tecnologie che aveva a disposizione, ciascuno Stato, ciascun sistema di potere, nel corso del tempo ha utilizzato le tecnologie che aveva a disposizione per garantire la propria sopravvivenza e indirettamente la sicurezza del sistema. Non so quanti al di fuori degli studiosi di diritto romano lo sanno, ma l'impero romano aveva inventato l'internet molto prima della DARPA. Per chi aveva creato il cosiddetto cursus publicus, che era un sistema di interconnessioni multimodale, si direbbe oggi, che consentiva lo spostamento di uomini cose e informazioni più in fretta di qualsiasi altro sistema allora disponibile. Già all'epoca gli imperatori avevano capito che il controllo dell'informazione e la possibilità di farla circolare in termini di massima velocità possibile era uno strumento essenziale per il potere e per il suo corretto esercizio, ma anche per la sorveglianza dei delegati esterni, dei prefetti dell'epoca o dei soggetti, dei proconsoli che esercitavano, che rappresentavano il potere romano nelle remote periferie dell'impero. Si potrebbe dire che il cursus publicus aveva l'equivalente della banda larga, dunque, e non solo, aveva anche l'equivalente della polizia postale, perché c'era un corpo di polizia che si chiamava Curiosi, se non ricordo male, che aveva appunto lo scopo di verificare che in questa infrastruttura le cose andassero come si deve. Allora, per riavvolgere il nastro e tornare ai nostri tempi, che cosa è cambiato? Se noi prendiamo atto del fatto che ci sono nuove forme di controllo tecnologico, è semplicemente antistorico pensare che non verranno utilizzate per gli scopi di cui abbiamo parlato. E allora a questo punto noi dobbiamo porci una domanda, da che parte stiamo? Cioè, stiamo dalla parte delle tirannie o stiamo dalla parte dei paesi democratici, liberali, occidentali? Perché se noi in un contesto dittatoriale invochiamo un diritto alla privacy, stiamo proprio mettendo insieme pere e bulloni, perché è chiaro che un dittatore non mi riconoscerà mai dei diritti che possono creargli un problema. E allora vuol dire che l'unico modo che ho per garantire la mia sopravvivenza, la mia attività politica, la possibilità di cambiare il regime, dipende non da un diritto ma da una situazione di fatto, cioè da un accesso a tutti gli strumenti possibili e disponibili per poter ottenere non privacy ma riservatezza o se vogliamo invisibilità rispetto all'esercizio del potere. In una situazione, in un contesto di democrazia, non può essere questa l'opzione. E qui arrivo al punto. Cioè, non possiamo invocare un diritto trasformato in articolo di fede, ponendoci fuori dal sistema e invocando la supremazia di questa religione e quindi la sua intangibilità da parte dello Stato. Apro e chiudo una parentesi. possiamo anche, posto che esista, chiamare la privacy diritto assoluto. Però è una definizione che non ha nessun senso, perché nemmeno la vita è un diritto assoluto. Se è vero che nel caso della legittima difesa, ad esempio, lo Stato non punisce chi uccide qualcun altro in determinate condizioni. E scalando verso l'altro ci sono democraticissimi Stati che praticano la pena di morte, che a noi come cittadini italiani ripugna, perché ce ne siamo liberati da quel dì. Ma, ripeto, democraticissimi paesi, o perlomeno considerati tali nel consesso internazionale, praticano la pena di morte allo stesso modo delle dittature. Quindi, chiudo la parentesi. Il riferimento agli Stati Uniti è puramente casuale. Ma, Stati Uniti, Giappone, voglio dire, è un segreto di pulcinella. Eppure sono democrazie pienamente inserite nel sistema occidentale. Con questo non sto sostenendo ipotesi anti-occidentali. Non è questo il punto. È semplicemente una constatazione sicuramente fattuale rispetto a considerazioni che si sintetizzano in questo. Se nemmeno il bene vita è un bene intangibile, figuriamoci qualsiasi altro bene. E veniamo appunto al passo successivo del ragionamento. Ed è il senso anche di un sottotitolo a uno degli articoli che hai mostrato. Se io faccio parte del sistema giuridico italiano, se mi riconosco in questa Costituzione, se ritengo che questo sgangherato Paese, con tutti i problemi che ha, sia ancora un posto nel quale le regole valgono, nel quale le regole hanno un senso, il tema non è impedire l'attività dello Stato, ma invocare che ai cittadini vengano dati degli strumenti efficaci per reagire in caso di abusi. Questo è il senso della mia posizione. Perché altrimenti se noi affermiamo il principio che non ci fidiamo del nostro Parlamento, che non ci fidiamo del governo, che non ci fidiamo delle istituzioni, allora amico mio l'unica alternativa è entrare in clandestinità, mettere il passamontagna e dare inizio ad un'attività di regime change per arrivare alla riforma dello Stato. E qual è la soluzione pratica per applicare questa tesi che sto sostenendo? Potenziare il diritto di difesa. Oggi potresti anche dire grazie se fai l'avvocato stai facendo un ragionamento. Ci arriviamo dopo però, perdonami perché quella era, come la cambieresti era l'ultima domanda. Mi fai una cortesia, siamo andati tanto alto, ok? Tra l'altro se siete arrivati fino a qua, siamo a 32 minuti, siete dei fottuti eroi. Il commento da scrivere sotto è batteria, ma questo è un gioco interno perché così meno vediamo chi è arrivato fino a lì perché scrive batteria. Poi ogni tanto me lo dimentico e mi chiedo perché la gente è arrivata e ha scritto cose a caso, però quello è un problema mio. Tirati un attimo giù a nostro livello. Mi fai qualche esempio pratico di cosa dovrebbe essere consentito, spannometricamente, secondo te, in questa ottica? Cosa dovrebbe essere consentito che adesso non lo è? Qualche esempio pratico. Allora, quello che è già possibile fare è scritto in realtà nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che risale, pur essendo del 30 e qualcosa, risale appunto al ventennio. Non so quanti. Si è dubbio che nessuno l'abbia mai detto. Ecco appunto, allora, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dice che oggi noi possiamo essere fermati in qualsiasi momento da un agente o da un ufficiale di pubblica sicurezza, il quale sulla base del semplice sospetto può chiederci i documenti e se non abbiamo questi documenti può portarci, questo agente o questo ufficiale può portarci in questura o in caserma se si tratta di un carabiniere e generalizzarci accedendo al sistema di fotoidentificazione a confronto delle impronte digitali e via discorrendo. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consente... L'identificazione, scusami, è quello che è di Piantedosi l'altro giorno con Navalny? No, scusami. È l'identificazione questa che tu stavi dicendo? Sì. Quando ti chiedono di identificarti, un po' come è successo ieri, l'altro ieri a Milano nella manifestazione in favore di Navalny? Sì. Ok. Tutte le volte che c'è il sospetto che ci possano essere dei turbamenti dell'ordine pubblico a prescindere dalla matrice politica di chi crea il problema o anche dall'appartenenza etnica o quello che sia, è sempre possibile per esempio identificare dei soggetti sulla base del sospetto, oppure è possibile per il questore emanare il cosiddetto ordine di dispersione, per cui un assembramento più o meno autorizzato deve per il solo fatto, che l'autorità di pubblica sicurezza lo ordini, cessare immediatamente qualsiasi tipo di attività e se non viene fatto si può passare all'utilizzo della coazione. Il sistema dei precedenti di polizia fa sì che tutta una serie di informazioni che ci riguardano vengano sistematicamente raccolte e classificate e conservate esclusivamente per finalità di prevenzione. Ricorderete una decina, forse più di dieci anni fa, la polemica fra l'allora garante dei dati personali Rodotà e i carabinieri a proposito dei cosiddetti fascicoli P, cioè delle pratiche personali che l'arma ha storicamente sempre compilato per appunto finalità di controllo del territorio. Faccio anche un altro, un piccolo passo storico. Perdonami però, in questo caso tu diresti lo attiviamo anche, perché la declinazione dell'identificazione nell'online sarebbe l'archivio di tutto quello che hanno scritto le persone su tutti i loro account social. Allora, il punto è questo, il concetto di prevenzione criminale o di prevenzione di antiterrorismo è un concetto giuridico, non è un concetto tecnico. Quindi prima si tenevano solamente le informazioni che si riuscivano a trovare. Se cercate in rete casellario politico giudiziario, troverete sul sito del Ministero dei Beni Culturali, un archivio interrogabile che teneva traccia degli attivisti politici fra fine dell'Ottocento e inizi del Novecento, in realtà diciamo fino al credo 1920-1930, interrogabile per regione, provincia, città e quindi facendo una ricerca per cognomi magari si scopre che un nostro antenato era qualificato come socialista, fascista, anarchico, addirittura ne ho trovato uno che era qualificato come sedicente avvocato. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che all'epoca non c'erano i computer ma c'erano gli archivi. Se leggete la biografia di Marcos Wolf, che è stato l'ultimo capo della Stasi, della Polizia Segreta della Germania Est, in particolare credo si occupasse del controspionaggio, lui descrive come funzionava il sistema di schedatura dei cittadini, schedatura totalmente manuale, divisa su tre palazzi differenti per cui per poter assemblare un'informazione su qualcuno era necessario passare attraverso tre diversi livelli di sicurezza. E c'è un passaggio del libro nel quale dice certo molti ci prendono in giro, comunque criticano il fatto che non utilizziamo i computer, però tutte le volte che leggo la storia di un ragazzino che è entrato nel computer della NASA, questo mi sembra che sia, questa mi sembra che sia la citazione testuale, mi rendo conto che forse non siamo noi della parte del torto perché non mi sono mai fidato dei computer. Quindi l'esigenza di accumulare informazioni, analizzarle e poterle riutilizzare, c'è sempre stata, quindi per tornare alla tua domanda, il punto non è se si possa fare, il punto è con quanta estensione. E se è vero l'assunto che ogni stato massimizza la tecnologia che ha a disposizione in un dato evento storico, non c'è ragione per la quale non si utilizza il riconoscimento facciale, il riconoscimento biometrico, l'automazione delle analisi delle informazioni e via discorrendo, perché sono degli strumenti che ci vengono, che sono disponibili. Il punto è come facciamo a prevenire gli abusi. Cosa che è congenita in ogni sistema, ogni sistema prevede, ogni sistema che viene creato, infatti il gioco del costo beneficio, credo, di buona parte, allora a parte gli attivisti duri e puri del a morte gli sbirri, ma togliamoci un secondo di torno quella parte, ok? Perché ogni estremismo è assurdo. La parte degli attivisti ti dice semplicemente una cosa, non esistono sistemi di prevenzione e di abusi su un qualcosa che è potenzialmente devastante per la democrazia, in mano a qualunque, qualunque regime o wannabe regime. Vedi, dal mio punto di vista, il difetto di questa posizione è proprio nel presupposto, cioè nell'invocare un principio di precauzione, per cui siccome è potenzialmente pericoloso allora non si deve fare, senza fare quello che qualsiasi esperto di analisi del rischio ti direbbe essere necessario, cioè individuare una soglia di rischio tollerato, individuare un rischio dal quale ci dobbiamo proteggere, dare un peso a questo rischio, dare un valore a questa soglia e poi fare dei ragionamenti. Che è quello che ha fatto l'Europa con l'AI Act. I documenti di quella parte è esattamente risk-based e il risultato di questa cosa è stata, non è carino dirlo così, no biometrico se non in determinate frazioni molto ridotte. Beh, io non ho trovato però analisi quantitative su questo, cioè non ho trovato numeri. Non hai trovato numeri? So che ne parlavo con Bonafè e no, con Brando Benifei e mi diceva che nel lungo percorso c'erano stati svariati analisi di questo tipo, poi non le ho viste io, quindi potrebbe... Io numeri non ne ho visti, però ti ripeto, anche qui facciamo capirci, l'analisi del rischio è una disciplina matematica molto complessa, che non si può esaurire in un paio di grafici fatti con un foglio di calcolo. Quindi vorrei vedere quali sono appunto i ragionamenti che sono stati fatti, soprattutto per stabilire questa soglia di rischio accettato. E questa soglia di rischio accettato nell'AI Act non è indicata. Quindi torniamo al punto, parliamo di un principio di precauzione che nella realtà diventa un secondo me. Ti faccio anche un esempio, andiamo ancora in concreto. Se io sono, si dice, devo proteggermi dalle frazioni. Ok, ma chi sono? Se sono un laboratorio di ricerca, di sperimentazione, che utilizza animali, probabilmente i miei potenziali avversari, chiamiamoli così, sono gli estremisti animalisti, che fanno irruzioni negli stabulari e via discorrendo. Se sono una banca mi devo proteggere da ladri. Sono due fenomeni, ancorché accomunati dallo stesso effetto, cioè l'effrazione, totalmente diversi dal punto di vista della provenienza dei metodi, delle tecniche, dei livelli di competenza e di pericolosità degli attaccanti. Quindi non posso trattarli nello stesso modo. Quindi in che modo possiamo parlare di analisi del rischio se non facciamo dei conti? Questo è il punto. Sì, io sono sempre d'accordo per i numeri. Quindi quando i numeri dicono qualcosa, io in genere sono d'accordo se sono calcolati bene. Da questo punto di vista, ti direi, deve essere anche ex ante a qualunque autorizzazione a determinato tipo di utilizzo. Allora, se parli dello Stato, anche qui dobbiamo fare un passo indietro e tornare nell'aspetto più specificamente legale. Benché il nostro sistema sia democratico, contiene in ogni caso una riserva, diciamo, di potere a favore dello Stato. Per cui la tutela della collettività prevale a certe condizioni sul diritto del singolo. Persino il diritto di proprietà, che è il cardine dell'Occidente liberale, nella nostra Costituzione può essere limitato per finalità di utilità sociale. Ed è quello che poi consente gli espropri di pubblica utilità e via discorrendo. Quindi, ancora una volta, le due concezioni che si scontrano sono quelle, da un lato, iperindividualiste, che nella sostanza sono di natura anarchica. Cioè, dicono, lo Stato, citando Pino Daniere, lo Stato non mi deve condannare, lo Stato non deve entrare nel mio perimetro quale che esso sia. E dall'altro lato abbiamo le posizioni di stampo, diciamo, socialista, in senso lato, che svalutano il ruolo del singolo per privilegiare la prevalenza assoluta della collettività nei confronti, appunto, dell'individuo. No, in realtà no, cioè, nel senso, io chiedo, se tu mi dici, è sbagliato non aver fatto un'analisi preliminare del rischio su determinate cose prima di proibirle tu cura, io ti dico, è altrettanto sbagliato, perché alla fine anche la collettività ha diritti, altrimenti è, cioè, ci sono dei posti in cui questa cosa funziona, del non c'è uno scrutinio pubblico rispetto a, eccetera, si chiamano totalitarismi, però, ed è il motivo per cui in Cina, ad esempio, il controllo di Stato è fatto, perché è stato, io ti dico solo, preautorizzazione di determinate cose, non puoi dire a questo punto, tanto noi siamo lo Stato, quindi abbiamo una supremazia della forza, eccetera, che è corretto, quindi intanto attiviamo determinate cose, poi eventualmente ci saranno dei controlli per capire come viene utilizzato, no. E no, non è questo il punto. Da uno Stato mi aspetto il contrario. No, non è questo il punto, il punto è se crediamo ancora o no che il rule of law, cioè il primato della legge, abbia un senso come strumento per limitare il potere dello Stato. Cioè, in altri termini, quello che ci differenzia da altri tipi di regimi è che lo Stato non è necessariamente giocatore arbitro, ma è giocatore magari con qualche vantaggio rispetto all'altra parte, ma sempre e comunque sottoposto ad un arbitro che è quello della legge, che è un concetto astratto, ma che nei fatti si traduce nella indipendenza della magistratura. Allora, se tu in un sistema di questo genere, proprio per andare nella direzione che tu stai proponendo, se in un sistema di questo genere abbiamo leggi ben scritte, cosa vuol dire legge ben scritta? Legge che è scritta a valle di una mediazione politica parlamentare, dove diverse visioni del mondo che provengono dai corpi intermedi trovano un accordo sensato e se abbiamo dall'altro lato degli strumenti tecnici, procedimentali, chiamiamoli così, che mi consentono di applicare queste tutele in tempi rapidi, compatibilmente con le necessità della collettività, il sistema si regge. Dov'è che questo sistema invece crolla? Crolla quando cominciamo a dire, sì vabbè la legge, però ci vuole l'etica. Questo sistema crolla quando dice, sì vabbè non possiamo aspettare le lungaggini della legge, dobbiamo fare qualcosa. Ma l'applicazione delle norme non è lunga e farraginosa perché sono norme, perché sono semplicemente scritte male, o perché sono applicate in modo spesso poco tecnico, nonostante chi le applica si presuppone abbia... E' quello che è successo fino ad oggi, che ha portato all'esclusione di determinati tipi di utilizzo dei dati personali, esattamente secondo questo percorso. C'è un piccolo particolare che il GDPR nel caso specifico, questo sia perché lo dice la norma stessa, sia perché lo dice il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'articolo 4, non può occuparsi di pubblica sicurezza, di difesa e di sicurezza nazionale. Quelle sono materie che, non lo dico io, lo dice il trattato, quindi se è una cosa che è stata decisa qualche decina di anni fa e non mi risulta che negli ultimi dieci minuti sia stata cambiata, vuol dire che dobbiamo tenerla per buono. Se difesa, sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica sono al di fuori delle competenze dell'Unione Europea, vedo un po' difficile invocare il GDPR per limitare queste prerogative. Anche qui è una questione puramente tecnica. Nell'AI Act non è citato il GDPR per questa parte, no? No, ma è citata per esempio l'esenzione per la sicurezza nazionale. Tu che sei un esperto di comunicazione, coglierai la sottile implicazione dell'avere detto questo regolamento non si applica alla sicurezza nazionale. Implicitamente questo significa che l'Unione rivendica una competenza sulla materia dicendo non si applica ma perché io ho il potere di escluderla, non perché qualcuno mi impedisce di farlo. E questo immagino sarà un argomento che i costituzionalisti e i pubblicisti dovranno presto o tardi affrontare più nel dettaglio. Cioè se e quali sono i limiti o meglio i modi per superare i limiti imposti dal trattato su determinate materie. Ah vabbè, quella sarà la prima cosa che proveranno a fare. Anche perché vedi, c'è una questione pratica che possiamo sintetizzare in privilegiare l'uovo rispetto alla gallina. Non so se ti sei mai occupato di Sky, ECC e di EncroChat. Sfortunatamente sì. E sfortunatamente anche professionalmente. Ecco, allora. Per chi se lo fosse perso è crittografia e sistemi di messaggistica crittografata. Uno di questi, EncroChat, ha una storia un po' particolare perché in realtà talune forze di polizia se lo erano già sfondati e hanno usato i dati che i cittadini che lo utilizzavano pensavano fossero cifrati, in realtà erano decifrati. Anche qui sono morti un po' di tecnici mentre io lo descrivevo così, perdonatemi. Bene, ora, che cosa è successo? Il modo in cui sono state fatte quelle indagini, ho analizzato anche qui molto più nel dettaglio la questione nel mio ultimo libro, però la sintesi è questa. Il modo in cui sono state fatte quelle indagini è stato fortemente discutibile perché parti consistenti delle attività sono state fatte al di fuori dei procedimenti penali, cioè sotto il controllo della magistratura. Questa cosa ha oggettivamente consentito una maggiore efficienza operativa, ma al prezzo che il diritto di difesa, e ritorna a quel concetto che avevo accennato prima, il diritto di difesa è stato limitato perché ci si è provati di fronte ad accuse basate su elementi che la difesa non aveva la possibilità di conoscere. Bene, la Corte di Cassazione Italiana, quando ha avuto la possibilità di interessarsi della questione, e quindi dopo anni, ha riconosciuto che questo modo di fare le indagini, cioè questo modo di, in particolare il fatto che i dati siano stati acquisiti con modalità non documentate, tramite un Trojan inserito nei Serra, non entriamo nel dettaglio della questione, insomma la Cassazione ha stabilito che la difesa aveva diritto di accedere a quei dati che le procure non avevano voluto rendere disponibili, sul presupposto del, vabbè ma tanto noi non ce le abbiamo, ce le hanno date da altri paesi, cosa volete da noi. Per esempio la Francia ha una norma nel proprio codice di procedura penale che si chiama Secre de France National, che consente al pubblico ministero di chiedere il supporto dei servizi segreti per determinate attività, con la clausola di protezione per cui queste attività non vengono documentate nel fascicolo. Possiamo essere d'accordo o contrari quanto vogliamo, ma almeno in quel caso c'è una norma che stabilisce un collegamento fra diversi corpi e diversi organi dello Stato. Quindi in che situazione ci troviamo? Questo di Encrociat è il caso paradigmatico nel quale il sistema nel suo complesso ha funzionato, perché si è arrivato in Cassazione e a Berlino questa volta il giudice c'era e ha rimesso in ordine le gerarchie. Qual è però il problema concreto? Il tempo. Allora, e torniamo alla necessità che qualsiasi rimedio contro abusi del genere dovrebbe poter essere applicato in termini di settimane e non di anni. È chiaro che se io per ottenere un risultato immediato, che sia la sorveglianza, che sia il controllo, che sia il monitoraggio, quello che vuoi, posso forzare il sistema e poi tanto se ne parlerà fra qualche anno, è chiaro che questo è uno squilibrio che non può funzionare. Ma da qui a vietare l'utilizzo di determinate tecniche o di determinati strumenti ce ne corre. Se il tema è, c'è troppo tempo fra l'utilizzo, il conseguimento del risultato e il suo controllo di legalità, allora facciamo in modo di avvicinare o di accorciare questi tempi. Sì, quello che mi piace è che hai tirato fuori Encrociata, perché nelle domande che avevo, la penultima, anche perché poi siamo a 54 minuti, se siete arrivati qua vi voglio veramente bene. Ma non per te, perché gente che riesce a mantenere oggi 54 minuti di attenzione è più rara che vincere al superenalotto. Tecnicamente parlando, in un sistema in cui la sicurezza nazionale ha prerogativa rispetto alle libertà personali, la crittografia non dovrebbe esistere. Una crittografia senza una possibilità per il governo di interfacciarsi all'interno non dovrebbe esistere. Guarda, la risposta è ovviamente sì, non dovrebbe esistere, ma guarda caso i tentativi per raggiungere questo risultato, mi riferisco in particolare al tentativo di imporre per legge il client site scanning, cioè il monitoraggio preventivo dei contenuti su un device prima che vengano cifrati e poi inviati, si sta cercando di realizzarlo con il nome della tutela dei minori e non della sicurezza nazionale. Ah beh sì, i pedofili, chat control. Per chi non avesse colto, stiamo parlando di chat control e non solo di quello. Quindi l'Inghilterra prima, l'Unione Europea sta ragionando su questi argomenti. Apple ricorderete aveva inizialmente proposto di attivare questo sistema di monitoraggio che poi però è stato dismesso a fronte appunto delle proteste degli attivisti per i diritti civili. Ed è paradossale che questa forte limitazione della sfera personale e della riservatezza delle comunicazioni non venga applicata, non venga invocata in nome della sicurezza nazionale ma in nome della tutela dei minori. Ora è chiaro che non dovremmo nemmeno dirlo, ma nessuno mai può, anche solo minimamente, pensare che ci sia una qualche forma di tutela che vada al di là del rispetto delle regole processuali per chi commette reati atroci nei confronti di persone deboli. Quindi questo è fuori discussione. Rimane però il concetto che ci vorrebbe anche un esterno intellettuale nel dire se il mio obiettivo è eliminare la crittografia forte, allora dovrei dire perché lo sto facendo. Perché oggettivamente quella della protezione dei minori è sicuramente una motivazione che dal punto di vista comunicativo buca e soprattutto zittisce le critiche, però sappiamo tutti che la regola è che la difficoltà in argomenti controversi è fare il primo passo, mettere il primo paletto. Perché una volta che il paletto è stato messo poi lo possiamo spostare quanto vogliamo. Ma quella è una storia lunga che ha a che fare anche poi con i blocchi DNS, i blocchi degli IP eccetera. Allora mettiamola così, premesso che mi arrogo la possibilità di poterlo dire visto che ho lavorato sulla parte di antipedopornografia per una dozzina d'anni con associazioni eccetera, è il grimaldello perché numericamente parlando non ha senso, questo dice nel senso le numeriche di reati che vengono perpetrati per quanto esecrabili non hanno senso per imporre generalmente una falla così grande che poi può essere utilizzata per mille altre cose, perché una volta che il grimaldello è entrato allora utilizzarla per altre cose, l'abbiamo visto con il diritto d'autore, gli IP sono stati bloccati per pedofornografia. Poi visto che era tecnicamente possibile allora ampliamo su determinate altre cose. E due, perché è talmente esecrabile come crimine che nessuno si prende la briga di dire le parole che ho detto io adesso, perché ovviamente ti fa sembrare un pedofilo, perché tu dici vabbè numericamente non ha senso e vabbè ma non importa, anche solo uno salvato vale più di tante altre, quindi nessuno prende la posizione. Quindi è perfetta come motivazione, assolutamente perfetta, comunicativamente. Torniamo al tema del rapporto fra etica e diritto. Il diritto serve soltanto ad una cosa, ad evitare che ci ammazziamo per strada per affermare le nostre ragioni reali o supposte che siano. Questo significa che, sto dicendo delle cose banali per chi si occupa di filosofia del diritto o in generale di teoria generale del diritto, questo significa che l'etica è al di fuori delle norme, perché quando si parla di etica ci si dovrebbe chiedere l'etica di chi? In nome dei principi definiti da chi dovrei seguire determinate regole diverse da quelle stabilite dalla legge? Che ripeto non è una divinità, è un contratto, una forma di mediazione politica fra varie constituency. E perché la tua etica dovrebbe valere meno della mia? Quindi se noi ci muoviamo nel settore dell'etica, ci muoviamo in un settore estremamente scivoloso ed estremamente complesso, per cui è evidente che ci sono diverse visioni del mondo e diverse concezioni dell'agire individuale. Ma queste concezioni non possono diventare di per sé regola vincolante per chiunque altro. Ho coniato il concetto di Uber diritto per definire questa caratteristica manifestazione del fenomeno. Cioè ritengo di avere diritto a qualcosa, il semplice fatto di ritenere di avere questo diritto deve diventare regola per chiunque, senza passare da quel processo di mediazione di cui parlavo prima. Cioè del confronto con altri soggetti che nelle sedi opportune, che sono innanzitutto quelle del dibattito pubblico e poi quelle del Parlamento, trovano un accordo di convivenza. C'è un bellissimo libro, si chiama La morte del prossimo, del 2009, scritto da Luigi Zoya, che analizza proprio il concetto di trasformazione del desiderio in diritto nell'interazione via social network. È un libro molto agile, pubblicato da Einaudi, che suggerisco di leggere perché è un'analisi estremamente lineare e, come dire, immediatamente comprensibile. E quando una cosa può essere spiegata bene è semplicemente molto probabilmente corretta. Dobbiamo chiudere perché ovviamente siamo a un'ora e un minuto. Ma quindi, la privacy è un diritto umano? È una domanda che, come dire, non ammette risposta perché è una domanda che non esiste, nel senso che dal punto di vista tecnico abbiamo già nella Costituzione tutta una serie di diritti che disegnano un perimetro estremamente ben protetto per tutti gli aspetti dell'interazione fra persona e società e fra persona e Stato. Non c'è bisogno di avere ulteriori diritti. Se poi vogliamo usare privacy come etichetta, come sintesi per evitare di dover ripetere ogni volta tutela della riservatezza delle comunicazioni, inviolabilità del domicilio, libertà di pensiero e via discorrendo, va bene. Però dovremmo essere consapevoli che stiamo utilizzando questo termine appunto come una sintesi, come uno zip e non come un diritto autonomo. Vorrei chiudere su un aspetto che è particolarmente interessante e che riguarda il rapporto fra privacy e discriminazione. Molto spesso si dice che la privacy è uno strumento per limitare la discriminazione nei confronti di minoranze di qualsiasi tipo. C'è una sentenza della Corte Suprema Indiana, l'india vera, non quella delle pelle rosse, di qualche anno fa, che stabilisce che in materia di omosessualità la privacy è uno strumento che va riconosciuto. Bene, se ci pensate può essere controintuitivo, ma questo modo di concepire la privacy come strumento per la tutela della dignità umana è concettualmente sbagliato, perché l'appartenente ad una minoranza non deve nascondersi, non deve doversi nascondere per avere la libertà di essere quello che desidera essere. L'appartenente a una minoranza, quale che essa sia, dovrebbe poter invece vivere in pubblico senza nessun tipo di discriminazione, senza nessun tipo di vestazione. Quindi dire che la privacy serve per tutelare la dignità delle minoranze perché se non si vedono sono libere di fare quello che vogliono, equivale, faccio un'affermazione forte, ad affermare come faceva il codice penale Zanardelli alla fine dell'Ottocento che l'incesto è un reato contro la morale e quindi si punisce solo se qualcuno si accorge che sta accadendo, cioè se destra pubblico scandalo. D'altra parte il fatto di dire che non dovrebbero doversi nascondere fa un po' tanto nella parte privacy, se non hai niente da nascondere non hai niente da temere, che da un certo punto di vista è corretto, cioè in questo caso se non fosse da nascondere l'omosessualità per le ripercussioni che hanno societarie, societarie intese come nega società. È corretto, dall'altra parte siccome non viviamo in un mondo ideale in cui questa cosa esiste, la privacy dà uno scudo contro il mondo reale. Ma crea più discriminazione di quanta ne risolve e assolve dal dovere invece di alimentare il dibattito pubblico per innescare una maturazione nella società. Cioè i grandi cambiamenti strutturali sono sociali, non sono giuridici. Pensare che la legge arriva per definizione dopo, perché prima avvengono i fenomeni e poi ci viene, nasce la necessità di capire se e come regolamentarli. Quindi pensare che sia la legge a doversi occupare del livello di civiltà o di maturazione di una società è proprio utilizzare un martello per fare la frittata. È vero. Dall'altra parte però mi piace la tua idea del assolve a un sistema tampone, perché nel mio punto di vista, che non vale assolutamente nulla ma è solo mio, è esattamente quello che fa la privacy. Cioè il diritto alla privacy assolve a una funzione tampone per evitare strapotere di una delle parti qualunque, che sia poi un governo, che sia un'azienda eccetera, in un momento in cui la legge è lenta a intervenire su determinate cose che potrebbero diventare estremamente, estremamente pericolose. Nel mondo ideale si è normato. Nel mondo reale che si crea, perdonami, è nel mondo reale che si crea il problema, perché se la privacy, qualsiasi cosa essa sia, assolve a questa funzione tampone, in realtà sta uccidendo il dibattito pubblico, perché lo polarizza e impedisce riflessioni come quelle che abbiamo fatto in questa ora e sei minuti di conversazione, che non pretendo minimamente siano da prendere come parole scolpite nel marmo, ma sono un contributo alla discussione. Se partiamo da una concezione... Se la funzione tampone è tale e non può essere messa in discussione, allora la funzione tampone diventa, come classicamente accade in Italia, la definitività del precario. Chiudiamo con l'ultima domanda. Come ridefiniresti quindi la privacy? Non la definisco, ripeto. Ritengo che abbia senso adesso, rispetto al passato, preoccuparsi del tema del proteggere le proprie informazioni personali, che non è un approccio legato al GDPR. Utilizzo in questi casi uno schema che ho trovato in un saggio di antropologia, sempre sul Giappone di un paese che, come avrai capito, mi interessa in modo particolare. Ah, un blog in giapponese, vi dico solo quello. Sì, che però non alimento oramai da troppo tempo. In questo saggio ho trovato uno schema fatto a cerchi concentrici che definisce la direzione verso del vettore di diffusione delle informazioni che riguardano l'individuo. Per farla breve, c'è un circolo più al centro di questa serie di cerchi concentrici che contiene le informazioni che ciascuno tiene assolutamente per sé e che non condivide nemmeno con la propria famiglia e con i propri cari. Quindi c'è un concetto di rilascio progressivo delle informazioni in funzione del livello di prossimità del soggetto col quale sta interagendo. Ora, che cosa succede? Il punto è, nel momento in cui io più o meno consapevolmente decido che determinate informazioni le condivido con qualcun altro, non è più il diritto a non rivelarle che entra in gioco, ma entra in gioco il diritto a che vengano utilizzate in modo corretto. Il segreto professionale del medico, il segreto professionale dell'avvocato, la segretezza delle indagini giudiziarie. Quindi il concetto di protezione delle informazioni personali non è un concetto statico e monolitico, ma è un concetto dinamico, una sorta di staffetta che funziona nella misura in cui mi consente di mantenere per me informazioni che non voglio condividere, ma che nel momento in cui si confronta con un passaggio di mano del testimone informativo, lascia spazio alla seconda parte della staffetta e cioè ad altri diritti che in forma complementare continuano a proteggere la sfera più intima e individuale della persona. Ad esempio, appunto, il segreto professionale, il diritto di difesa, il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Quindi, come vedi, se la privacy, qualsiasi cosa essa sia, la ripeto sempre, viene vista in modo dinamico e integrato con il sistema dei diritti, diventa uno strumento efficace che interagisce con altri strumenti. Se la consideriamo nostra signora della privacy portata in ostensione, la macchina si grippa. direi che possiamo fermarci qui, però, attenzione, fermarci qui più o meno, perché se la cosa vi interessa, quello che vi consiglio io è questo, ok, The Digital Rights Delusion, soprattutto il capitolo 2, dove in The Quest for Digital Rights qualcuno vi dirà che non esistono diritti digitali perché non esiste un diritto che è meramente digitale. qualcuno, eh, non so chi, nel caso vi lascio sotto il link in… allora, vi lascio sotto il link al suo blog, al canale YouTube e a questo libro, calcolate che ha scritto più libri di quanti io sono in grado di citarvi, quindi andate a cercare, eccetera. Note di chiusura a qualunque cosa che non ti ho chiesto che volevi dire? Tanto va, a un'ora ai dieci abbiamo tutto il tempo che vuoi. No, certo, vorrei solamente, spero che di avere chiarito una volta e per sempre la mia posizione sull'argomento anche in relazione, diciamo, a una serie di considerazioni critiche che da più parti vengono fatte su queste posizioni e ricordo che sono sempre disponibile al confronto e al dibattito, quindi non c'è bisogno di, come dire, agitarsi senza dare seguito a queste posizioni. Ci sono anche possibilità, no? Perché tra fine di quest'anno e inizio anno prossimo c'è una serie di eventi, ritorna anche mo', c'è tanta roba carina su cui si potrebbe parlare di questa cosa, magari prima avendo visto il video. Sì. Così almeno, no, più che altro perché si comprimono un po' i tempi. Io, io non so, come avete visto, raramente sono stato così in disaccordo con una persona su determinati punti di vista, però è importante aprirli, raccontarli e scriveteci nei commenti, magari in maniera un filo più articolata del non ragione Tizio e ragione Caio, che della ragione, ambe due credo ci puliamo, non vi dico che cosa, però se volete scrivere anche articolato qui sotto, se no vi lascio tutti i contatti per Andrea. Andrea, grazie mille. Grazie e alla prossima. Rimani qui un secondo che ti saluto, per il resto noi invece ci vediamo alla prossima puntata, se siete arrivati qui siete davvero degli eroi, vi stimo tantissimo, grazie mille per averci ascoltato ed estote parati. Grazie a tutti.